È salito il numero delle pattuglie in azione sul territorio, sono aumentate le rapine, ma al tempo stesso è cresciuto il numero delle persone arrestate e denunciate, sintomo di un maggiore controllo e di un lavoro efficace. Sono questi i principali dati che emergono dal bilancio dell'attività della polizia nella provincia di Ascoli nel 2007, presentato questa mattina in Questura. Inevitabile a non partire dagli arresti che sul territorio sono stati ben 235, di gran lunga superiori ai 190 del 2006. Le persone denunciate sono state invece a 1.329, mentre i furti sono saliti a 1.111 rispetto ai 1.087 del 2006, così come le rapine in banca che da 20 sono passate a 27. Sempre vigile il controllo delle genti sul mercato della droga, quest'anno la polizia ha sequestrato 1.200 kg di cocaina, 1.400 kg di roina e 205 g di hashish. Mentre le persone arrestate per reati connessi al traffico di stupefacenti sono state 57, di questi 27 sono stranieri. Il dirigente della squadra mobile Fausto Lamparelli commenta così il maggior numero di interventi. C'è stato invece un impegno maggiore, un sacrificio maggiore da parte degli uomini della Polizia di Stato, che ha portato ovviamente a risultati maggiori. Però ecco, non direi in emergenza criminalità in provincia assolutamente. Fra le operazioni più note si ricordano le due Toshinden, l'arresto a fermo del senegalese che aveva ucciso un connazionale, la truffa a danno della Telecom e l'individuazione dell'aggressore dei due agenti durante il match Ascoli-Roma. Salgono poi anche nel territorio le truffe telematiche, qui fanno capo delle organizzazioni che rubano denaro attraverso la rete. Questi i consigli del dottor Lamparelli quando ci si trova davanti al PC. Molto attenti nella diffusione dei propri dati personali, soprattutto diciamo su internet, cioè cercare di utilizzare internet con sicurezza, non fidarsi di siti di cui non se ne conosce la provenienza.